Attenzione, vi ricordiamo che questo video è fatto con intento umoristico, quindi non prendete sul serio tutto ciò che verrà detto nel video. E anche se fosse serio comunque è la mia opinione, anche voi sicuramente su alcune delle mie opinioni sarete d'accordo, mentre su altri no. Quindi, enjoy the video. Ah, League of Legends, quel gioco creato dalla Riot Games che ormai continua da quasi sei anni. Bello questo gioco, molto interessante, strategico, pieno di diversi campioni, diversi stili di gioco e tanti, tanta gente che ci gioca. Però, nonostante questo gioco sia bello, c'è da ammettere una cosa. Ogni singolo campione in questo gioco ha il suo modo per essere cancro. E oggi, in questo video, vi dimostrerò il perché ogni campione di League of Legends è un cancro. Bene, quindi per ordine alfabetico, il primo è Akrox, la lama dei Darkin. Allora, vi metterò in sottofondo un piccolo video di... per mostrarvi cosa non va in questo champion. E... guardatelo, cioè... guardatelo. Non muore. Non muore. Smettila di vivere. Non muore. Smettila di vivere. Oh, è già arrivato il suo turno? Devo farlo per forza. Sì, va avanti col video. Va bene. Prossimo analista, Ari, la volpe a nove code. Quel fottuto charm! Smettila di... ULTARE! Akali, il pugno dell'ombra. Bene, secondo la lore, Akali è uno di quei ninja che ha portato il bilanciamento nel mondo di Valoran. Ciao! Sono Akali! È un piacere one-shotarti! Ah, mi senti dicendo che il video che ho fatto con Singramid non vi è bastato su Alistar. Va bene. Prossimo analista, Alistar il minotauro. E... Bello, vedo che fai tanti danni. Serve un peccato se oltassi. Mocca di merda. Amumu, la mummia criste. Anche se criste... Tutto ciò che deve fare questo piccolo esserino è... Grab! Ulti! Teamfight vinto! GG! Anivia, la criofenice. Sarà sempre un piacere avere questo uccello in team. Soprattutto se questo uccello è giocato da un giocatore molto simpatico che si diverte a crollare il proprio team. Ah, divertiti con i report. Annie, la bambina oscura. Questa bellissima bambina ha una così bella passiva che le permette di avere uno stun di 3 secondi su ogni singola spell a sua disposizione. Che bello! Ash o Ash? Non ho ancora capito come si pronuncia. L'arciere dei ghiacci. Stunnato e... Micraglietta! Azir, l'imperatore delle sabbie. Ah, quanto è bello questo pollo. Osservate un po'. Sotto torre. Da solo. Tre nemici lì attorno. Oh, un bel tower dive. Tanto è da solo. Che mai può graffare? Oh. Ah. 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 Mi sa che stasera non mangeremo pollo. Bene. Se lo vedete, questo vuol dire che X5 ha trovato la voglia di editare. Se non lo vedete... Alla chi. Comunque... Boh. Scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto questo video. Scrivetemi nei commenti se volete che continuo questa serie. Perché alcuni di voi che giocano con me probabilmente non vedono l'ora che io venga a certi champion tipo Karma, Lux, o quel bellissimo champion chiamato Malzar. Voi proprio non vedete l'ora di vedere X5 che Xclera su champion del genere. Beh, se questa serie vi piacerà, forse pochè continuarla. A voi la scelta. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bye bye. Noi ci vediamo con un prossimo video.